buongiorno a tutti ragazzi e ragazze bentornati in un nuovo video allora oggi vi farò vedere il mio ordine senom arrivato ieri ci sono diverse cosine è stato un bell'ordine è stato un ordine 192 e 97 centesimi quindi un bell'ordinone ci sono ovviamente i momenti in cui le persone ordinano di più e momenti in cui ordinano di meno ci sono alti e basso ovviamente però questa campagna è andata abbastanza bene allora intanto mi sono arrivati tutti questi bei cataloghini ecco di cui ne manca già una perché già lo sto facendo vedere e questa è la nuova campagna se rom questo mese fa l'anniversario di 59 anni da che è nato quindi questo qui e ci sono delle bellissime offerte allora prima vi faccio vedere tutto il materiale che è arrivato a me e e poi vi faccio vedere i prodotti da catalogo catalogo 14 questo è il 15 quello nuovo allora in quanto consulente ho ordinato in prima questo set e contiene lo sgrassatore profumo di eucalypto e foglie di pomodoro e l'aquila un profumo marino alle note avvolgenti di ed esotiche di monoi e lo stan week profumo fresco alle note frizzanti e delicate di bergamotto e tè verde sarebbe questo set che si può acquistare ora io l'ho preso in anteprima con l'ordine di campagna 14 questo set è acquistabile sul catalogo a 24 euro e 90 eccolo qui e regalo si avrà questa bellissima stola e che io vi farò vedere perché l'ho presa ovviamente che era compresa nel set sì quindi è un regalo di ste nonno che vuole premiare le sue clienti con questo nuovo con questo set in edizione limitato con nuove fragranze vi vi assicuro e garantisco che questo qui fa un profumo bellissimo questo pure l'aquila un è bellissimo lo sgrassatore è uno sgrassatore normale però questi due soprattutto il profumo sono veramente top quindi se li volete acquistare straconsigliati perché poi c'è questa bellissima stola il regalo che veramente grande e molto bella allora ora vi faccio vedere il 7 il 7 1 aquila un da 750 ml sgrassatore da 750 ml e lo stem week questo qui da 250 ml il classico stan week veramente il profumo come vi ho già detto inebriante mamma mia questo per i vestiti è bellissimo l'aquila un serve per lana e delicati quindi prodotti in raso seta e quello che la lana le coperte visto che ora c'è il cambio stagione perché ora inizia a far fresco e lavate le coperte e avrete le coperte con un profumo esotico e bellissimo delicato e questo è ci sono innamorato di questo peccato però che è presente solo in questa campagna penso perché in edizione limitata quindi se volete provarlo provarlo provatelo il regalo mi è arrivata la storia vi arriverà in questo bellissimo cofanetto di carta tutto decorato di dietro si apre così con la linguetta e poi c'è la storia è bellissima veramente bello eccola qui è grandissima e si può usare per qualsiasi occasione per tutti i giorni se sia in ufficio al lavoro di segare inizio a far fresco appunto è veramente bella mi piace molto molto invernale quindi straconsigliata vedete molto molto grande e carina sì sì mi piace molto quando si esce sta bene quindi bella veramente ok questa è la storia poi io sul catalogo ordinato però direi che per aderire aderire a un'offerta questo siero della pierre dottor pierre show ed è un fluido un siero levicante e idratante istantaneo applicare al mattino da solo o prima della crema da giorno abituale sul viso perfettamente pulito io l'ho messo stamattina e già mi sento la pelle molto liscia levicata appunto è ben profumata fa un profumo di mandorle rose una cosa del genere è veramente buono e il siero è da 30 ml ne bastano due goccine per ogni parte del viso e il risultato è garantito quindi 20 euro questo è venuto ok poi sul catalogo 14 facendo un minimo di 150 euro d'ordine era possibile acquistare o la collana o il bracciale di rosa pepe tre cristalli io ho scelto il bracciale perché le collane non tanto le utilizzo ed eccolo qui è molto carino guardate che bello bello veramente non ho cercato il valore del bracciale commerciale però penso che costa un po è artigianale quindi bello arriva in questo sacchetto di velluto e quindi niente bello veramente sono rimasta molto contenta rosa pepe vedete anche perché comunque senom a conto stoccamento sempre gratifica l'operato delle consulenti in base al loro dispendio ovviamente no quindi questo mese sul catalogo è possibile però solo la prima settimana quindi io non aderisco all'offerta avere o i guanti o un portafoglio piccolino vediamo che lo trovo ve lo faccio vedere però mi è arrivata la comunicazione nel mio gruppo che i guanti non sono più disponibili e quindi in sostituzione verranno date altre cose non so ora cosa io intanto so devo consegnare ancora le cose e poi dovrà accogliere gli ordini eventuali ordini quindi per adesso ancora non lo faccio eccoli qui dal 5 all'11 quindi era questa prima settimana di catalogo cerni guanti e questo portachiavi ecco di guy la roche però i guanti non ci sono più non so cosa daranno in sostituzione sempre facendo 150 euro d'ordine questa è la pochette che mi è arrivata in quanto ho fatto un minimo di 35 euro di prodotti dottor pieri show perché una mia cliente ha acquistato un altro prodotto ci sono arrivata ci sono rientrata questo era possibile averlo con due euro è un borsello della dottor pieri show molto pratico molto carino una lo può utilizzare un usare per mettere le creme set delle creme quindi carino vedete una lo mette qui e si fa il set creme molto carino mi piace in questa confezione e questo qua poi se non in quanto fa appunto 59 anni ha inviato questi questi carini per fare presentazioni quello che si vuole con dei cartoncini eccoli qui vedete che sono carini se uno appunto deve fare dimostrazioni o cose può utilizzarli per farle questi sono i cartoncini me ne sono arrivati mi sembra sei o quattro non mi ricordo ok poi ho ordinato per me questi sacchetti profumati antitarme alla lavanda 10 euro e 90 i blu crystal che fanno un odore bellissimo l'ho acquistati per metterne qualcuno nel cassetto perché si possono usare anche come deodoranti da cassetto e da armadio dato che ora ho una stanza nuova mi piace l'idea di metterli dentro l'armadio così di odorano piacevolmente l'ambiente questi poi mi è arrivata una promozione riservata a me consulente con un codice speciale con un cartoncino che potevo acquistare questo dry spray a soli 4 euro dedicato appunto a me consulente e quindi l'ho preso questo windows spray scusatemi e quindi l'ho preso per i vetri perché questo è un prodotto top di senom che un must uno dei più inventuti è perfetto per i vetri e anche il panno quello la viola è ottimo ok io ho finito col mio col mio ordine ora vi faccio vedere i prodotti da catalogo che mi hanno ordinato i clienti allora una nuova cliente mi ha acquistato l'aquila on questo qui che veniva mi sembra sul 7,90 8,90 7,50 ok questo 7,50 poi mi ha ordinato lo shampoo repair che veniva sulle 7,50 questo qui questo shampoo serve per capelli secchi e rovinati è concentrato a 200 ml però evidentemente è veramente buono e ne basta poco l'aquila on come sempre serve per lana e delicati poi questa cliente mi ha acquistato un set da 12 euro degli intimate gel uno all'aloe e uno neutro questo veniva a 12 euro in promozione poi mi ha acquistato il primer che veniva a 10,50 10,90 10,50 ok questo qui che sarebbe il premere una base per il trucco che va messa prima del del fondotinta del trucco poi mi ha acquistato anche la matita per le sopracciglia questo qui che veniva vediamo se trovo il prezzo 9,50 9,50 questo qui ok poi la mia carissima amica debora che tra l'altro ha partorito da poco a cui faccio tantissimi auguri è un bel maschietto mi ha acquistato questa base coat rinforzante 4,50 euro mi pare questo contorno occhi levigante della dottor pierichaud sempre uguale a quello che ho acquistato io quindi siccome ho acquistato questi due prodotti mi hanno dato appunto quella ci sono rientrata perché questo viene 15 euro e poi mi ha acquistato questo silk matte liquid lipstick nella colorazione 1 undressed che sarebbe un nude lei acquista sempre questi tipi di colori quindi va bene così poi un'altra mia cliente nuova ha acquistato questo profumo il pure coincidence 22,50 euro e 90 poi questo bagno schiuma gel doccia profumato corpo e capelli della chiotis paris e poi mia zia ha approfittato dell'offerta che c'era sul catalogo ovvero ogni 35 euro di ordine e multipli si poteva acquistare un dry spray con 5 euro dato che ho fatto un bel ordine e mi ha detto se arrivi me li prendi quindi io ho preso tutti i multipli di 35 quindi 35 35 35 35 35 35 in quanto ho fatto un bel ordine e questi sono venuti 20 euro sono i spray disinfettanti che sono stra venduti in questo periodo io li porto pure con me dietro anche le salviettine a volte porto per disinfettare l'ambiente i carelli quello che capita prima perché non so chi li tocca quindi sempre lo porto soprattutto quando vado a fare la spesa e niente questo è stato tutto il bell'ordine di stenom speriamo di avere un altro bell'ordine in questo catalogo se no niente pazienza ci sono belle promozioni belle offerte quindi speriamo bene c'è la novità anche delle tavolette per il bc 690 quindi stra stra offerte e niente io vi auguro un buon resto di giornata e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti